Villa Bardini a Firenze riapre dopo due anni di chiusura con la mostra Galileo Chini e il simbolismo europeo, aperta fino al 25 marzo, dedicata al pittore e illustratore ceramista fiorentino, maggiore esponente italiano del Gusto Liberty e uno dei più grandi interpreti europei dell'Art Nouveau. Finalmente un'apertura di mostra, un'inaugurazione di presenza, finalmente si riprende il percorso speriamo di una vita normale e definitiva. E' soprattutto fatta con una mostra molto bella, una mostra molto particolare e che riporterà sicuramente i fiorentini a Villa Bardini per rivedere sia Villa Bardini con questo splendido panorama, ma soprattutto con delle bellissime opere d'arte di un fiorentino, di un fiorentino molto importante. Saranno esposti oltre 200 pezzi fra dipinti, disegni, illustrazioni e ceramiche in un sosseguirsi continuo di legami e parallelismi fra l'artista e l'arte internazionale che lo ispirò e che a lui si è ispirata. Saranno presenti opere dell'ambiente artistico tra simbolismo francese e mitteleuropeo, tra pre-raffaellismo e secessioni, che vede intrecciare il percorso di Chini con quello di artisti del calibro di Auguste Rodin, Gustave Klint, Max Klinger, Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Odilon Redon, Félix Vallotton e Pierre Bonnard. Questa è la prima mostra di Galileo Chini che si tiene a Firenze, che è la sua città natale, ed è focalizzata sui primi vent'anni della sua carriera, che furono determinanti per la costruzione di tutta la sua impalcatura culturale. Intrattenne rapporti con i maggiori artisti europei, da Rodin a Bonnard a Vallotton, e tutto questo si vede ed è sottolineato nella mostra da incrosci di quadri e di opere che ne mostrano veramente la grande vitalità culturale. Galileo Chini all'epoca era uno degli artisti più noti, degli artisti italiani più noti in Europa e persino guardato con ammirazione da Boccioni, per esempio, che sarebbe diventato uno dei leader dell'avanguardia futurista. L'artista fu anche uno straordinario ceramista, secondo il gusto modernista dell'Art Nouveau, in Italia meglio noto col termine Liberty, e diresse a una fabbrica chiamata prima Arte della Ceramica, poi Fornaci San Lorenzo, che raggiunse in breve tempo fama mondiale. In mostra a Villa Bardini sono esposti alcuni suoi capolavori, come i vasi pre-Raffaelliti della primissima fase, il vaso all'ustro rosso con alberi del 1902, il cash pot con camaleonti e altri pezzi da annoverarsi tra i capolavori della ceramica europea del periodo.